Bene, ora passiamo al ping pong. Stai lista? In italiano, immagino, no? Sì, in italiano. Bene, aprile, sei pronta per il ping pong? Sì, sono pronta. Ok, focaccia genovese o empanada? Empanada. Quale carne, pollo, verdura? Di prosciutto e formaggio. Spiagge italiane o argentine? Italiane, definitivamente. Questo è difficile. Assado o bistecca? No, secondo me assado. Ok. Muzza, la mussa o margherita? La pizza mozzarella, mi piace di più. Ok. Cantante italiano preferito o italiana? Non ho sentito così tanti artisti italiani, ma secondo me bianco e blanco. Ah, blanco. Quello che ha spaccato tutto a Sanremo. Sì, l'estate scorso, sì. Mate o caffè? Caffè. Calciatore preferito? D'Argentina o d'Italia? Italia, prima. Ma l'italiano non li conosco. E l'argentino? Messi. Un giocatore che giochi solo in Argentina? Uno che ti piace tanto? C'è un giocatore che gioca adesso nella mia squadra, River Plate, che si chiama Aliendro. Mi piace tantissimo. Vuoi mandare un messaggio a quelli del Boca? No, 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 no. L'italiano non riesco a insultare così tanto. No, no, no. E vuoi dire qualcosa allo del Boca? Il carriere è più grande, definitivamente. È il più grande. E che sono 50-1 lo del Boca? 50-1, literalmente. Vino italiano o vino argentino? Non ho assaggiato così tanto il vino italiano, quindi mi piace di più quello argentino. E la risposta era per tu padre, no? Sì. Peroni o Kilmes? Peroni mi piace di più. Tango o Tarantella? No, 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 no ballo, ma... Non balli, no. No, non ballo, no. Forse il tango è bellissimo da vedere, secondo me. Dimmi tre parole in biellese, dove sei stata. Allora, non ci sono parole specifiche, ma ci sono modi da dire. Quindi c'è babin, che sarebbe tipo babene. Poi c'è anche anduma, che sarebbe andiamo, in piemontese. E anche mangiuma, che sarebbe mangiamo. O fumacanduma sarebbe andiamo o no? Sarebbe la stessa cosa. La cosa che più ti ha colpito dell'Italia? La bellezza della città, cioè le strade sono belle senza niente speciale, secondo me. Com'è fatta la bandiera italiana? Quali sono i colori? Cioè, i colori? In ordine. È verde, bianco e rosso. Brava, bravissima. Grazie a tutti per aver visto ed ascoltato anche questo nuovo episodio, questa volta di un'Argentina in Italia. Grazie a tutti e alla prossima. Bye bye. Ciao. Ciao.